A spesso i nostri spaziati passiloghi vi parliamo d'allogio, con progetti portati dai municipalità che sono in onda, oggi in Castello di Rustino, abbiamo parlato di un progetto che compiuce l'inaugurazione oggi e ha da permettere a noi tanti noi di installarsi in suo paese il Rustino. Questi abitanti noi sono installati in Ponte Nou da un stato il luogo più popolato e aggumona dove è concentrato all'attività economica e con fiertà che è un meri inaugurato l'astimento Polidori che c'è molto tempo e determinazioni da rinuare sui ciugasali. Questo progetto è stato iniziato durante l'anziale mandatura quindi abbiamo avuto un finanzamento molto tardi. come abbiamo avuto molti lavori realizzati, Il y a 3 nuovi appartamenti in questo battimento. Ce ne sono solo persone che vivono su la comunità di Castile o che lavorano. L'idea è veramente di fixare le persone su la comunità tutta l'anno. C'è molto importante, abbiamo diversi progetti. Quindi, le persone sono originari della micro-régione dove lavorano. Quindi, ci sono i fixi. E poi abbiamo ancora 2-3 progetti di riabilita. Per che il nostro parco immobiliano sia un'età per i futuri locatari. L'idea è che i raggiungino e contribuire alla vita della comunità, anche se è sempre più difficile nelle azze dove la territoria passe. Ma poi, è un dei punti forti di nostra politica di cercare di dynamire la vita di Ponte Novo. Come aspetti su Basi Baesi, abbiamo una ragazza di un'abbia capacità di finanziare le operazioni da parete. La vita non è solo sul litorale. La vita è anche all'interno dei nostri terri. E' è importante che l'Etat sia là per soutenere i progetti di creazione di logements da nosi villages. Perché ci permeti, d'abord, di riempire dei voli, di avere un'offre di logements a buon prix per i nostri concitoyens che vogliono restare nel villaggio, o che vogliono venire s'installer al villaggio. E, inoltre, ci ha una vertu, c'è la transition ecologica. Cosa realizzazione, sa famiglia, posso tutti trova, infine, un allò di un rostino dopo quattro anni ricerche, pozzine, che ho bisogno. Cosa mi ha permesso di vivere su la commune di Castello di Gostin, già perché io lavoravo proprio a costo, ciò mi ha permesso di me rapprocher di mio lavoro. Le logements sono minimi. Io ho fatto molte ricerche, ho trovato una chiusura a un pied. Surtro che c'è un beauté 4, rinnovato, entriamo neuf, ciò che permette a mio figlio di essere a l'escola proprio a costo. C'è una bena per noi. On ha cercato molte volte, soit trova piccola, soit chers, soit a la vente, ciò che non è nei nostri modi per il momento. Quindi, veramente, on è contento di vivere qui. Surtro che c'è un logement di meri, quindi il loggio è basso per rapporto al prezzo che c'è sul mercato. Quindi, on è felice di poter vivere in questo batico. Una fitta poco gara, è giusto appunto una volinta volta a me ria che volia incalcare non tal'aspetto sociali. Abbiamo cominciato già a fare una politica per l'allogio, per i giovani di qui. E dunque, quando si parla di giovani, c'è sempre un problema di risorse, di evidenza. Abbiamo messo un ballo, una commissione attribuzione, dicendo, guardando i occhi d'usivagio, l'allogio sociali. Abbiamo fatto questa commissione, perché oggi abbiamo pareti appartamenti che sono stati rinnovati e pareti appartamenti canavani. E dunque, a questo livello, vogliamo essere in regola con tutto ognuno, dicendo che ci sono maniera di vare, mica semplicemente di dare un allogio a quel che sia, ma di vare che quelli che hanno più bisogno che sono di un luogo possano avere la possibilità di allogiasi. Ed è certo, in mezzo a un piazza, gli stessi criteri, gli stessi criteri, che hanno l'uffizio di l'allogio, di un uccezmante. Abbiamo cercato, siamo andati a bene, gli criteri di l'uffizio di l'allogio, e abbiamo vato, dopo che aggiustano la particolarità di la nostra comunità, perché c'è una comunità, c'è un'asso di un'allogio, di Khanteno, dopo ci sono iressi Looksati, e quindi, a volte, haeti un'assuicita di unrellaggio, che non è solo il lidio che si riempcentano, che si riemp formulationi, ma nostra volontà, oggi, è diva, che Alenti sibossi non stare un paese, mica in Khanteno, perché un Khanteno, normalmente, si sviluppa da bere, si sviluppa da bere, e in fatto, Até, in un castello, un piano, e poi i alghi, e poi u 오�cotico, Alenti님 sibossi Non stare. Ed ast pissano lui di dino, in paesi, a municipalità di Jepparin o a cuida l'altra gaza, dave un svilupoù spartouto, non ta tuta agumun.